visto che nei commenti della scorsa birra sempre di Abbazia Tre Fontane è stata poi nominata appunto la triple con l'eucalipto questa birra precisamente e visto che avevo in casa una bottiglia di triple appunto per un evento sulle birre trappiste ma soprattutto visto il fatto che non avevo ancora scritto la scaletta e avendo già parlato di questa birra posso tagliare e dire che se vi interessa la storia si può recuperare nel video precedente la birra di oggi è appunto la triple all'eucalipto di Abbazia Tre Fontane vediamo quindi la scheda con tutte le informazioni della birra appunto come già anticipato è una birra trappista italiana e il birrificio è Abbazia Tre Fontane ci troviamo a Roma il nome di questa birra è semplicemente triple lo stile è come suggerisce il nome quello di una Belgian triple riferimento 26C se volete appunto la codifica BJCP gli ibu di questa birra sono 30 esattamente a metà della range previsto dallo stile che va appunto dai 20 ai 40 ibu 8,5 il grado alcolico bottiglie da 33 centilitri acquistate in beer shop a 4,85 euro bicchiere suggerito direi anche in questo caso come al solito pallone o tulipano per questo stile la temperatura di servizio suggerita come riportato in etichetta tra i 10 e i 12 gradi centigradi appunto come anticipato di Abbazia Tre Fontane abbiamo già parlato in passato e se volete appunto recuperare la storia di questo birrificio il motivo per cui questo luogo appunto sulle colline appena fuori Roma viene chiamato Tre Fontane vi invito appunto a recuperare il video della scala Celi o scala Coeli nei commenti mi è stato fatto notare quale potrebbe essere la pronuncia corretta ma appunto non avendo mai studiato latino non so appunto se sia più corretto Celi come ha riportato in alcune funzioni religiose o Coeli come invece sottolinea qualcun altro fatto sta che appunto recuperate quella puntata che lascio magari qui in una scheda per la storia del birrificio birrificio che da relativamente pochi anni ha iniziato a fare birre tra piste questa triple è particolarmente importante e caratteristica per l'utilizzo di eucalipto che come nominato nella puntata appunto sulla scala Celi o scala Coeli che dir si voglia l'eucalipto può essere una pianta ricorrente nella tradizione monastica perché è una pianta originaria dall'oceania ma importata nel settecento in Europa è particolarmente utile, piantare questa pianta è particolarmente utile nelle zone in cui è necessario cercare di bonificare quindi eliminare diciamo eccessiva umidità e presenza di acqua appunto nel territorio essendo un eucalipto particolarmente vorace appunto di acqua motivo per cui in molte abazie anche del centro Europa ricorrono piante come l'eucalipto o la palma scime, ves, vletter, eccetera appunto piante che assorbono l'acqua e sappiamo che i trappisti in generale in molti monaci si sono dedicati negli anni appunto a quelle opere di bonifica di alcune zone più o meno paludose europee come anticipato la birra è prodotta da relativamente pochi anni ho un ricordo che la prima volta che la assaggiai un po' di anni fa avevo questa parte di eucalipto dal mio personalissimo punto di vista un po' troppo spinta e troppo invadente al naso mi è capitato di riassaggiarla due o tre anni fa no forse anche di più perché il lockdown mi sta facendo perdere un attimo i riferimenti ma comunque qualche anno fa e mi sembrava invece molto più contenuta, bilanciata ed elegante quindi direi che è arrivato il momento dopo questo tempo di riassaggiarla nuovamente vedere com'è stata eventualmente e ulteriormente modificata questa ricetta due parole come al solito sull'etichetta della bottiglia due etichette più il tappo il fondo dell'etichetta sia frontale sia posteriore è un colore giallo-giallopaglia come l'altra birra è presente la stessa tipologia di grafica come l'altra birra quindi con scalaceli, con il logo, il nome della birra, il nome dell'abbazia eccetera eccetera nella parte posteriore ci sono gli ingredienti che leggerei per correttezza è interessante vedere foglie di eucalipto riportato dopo il lievito quindi la quantità, essendo gli ingredienti scritti in ordine decrescente per quantità è sicuramente contenuta ma il potere balsamico di questa pianta è fortissimo e quindi vediamo quanto è intenso al naso questa pianta e passiamo quindi all'apertura della birra breve interruzione perché proprio in questo momento la gatta aveva bisogno di affetto forse era solo curiosa di assaggiare anche lei questa tripe il fatto sta che non ha versato il fondo della bottiglia perché c'era una discreta quantità di sedimento di lievito appunto dovuto alla rifermentazione in bottiglia non è passato molto tempo ma vedete che la schiuma si è già un po' smontata perché era molto soffice, molto abbondante ma sicuramente poco persistente e passiamo quindi all'analisi organolettica di questa birra partendo proprio dall'aspetto visivo quindi una schiuma color bianco non molto persistente con una grana direi grossolana e la birra è un ambrato abbastanza scarico e direi relativamente velata perché anche puntando alla direzione della luce comunque è piuttosto velata come birra e passiamo a questo punto al naso e al naso sicuramente emerge la parte balsamica data dall'eucalipto emerge anche una parte fruttata in particolare secondo me c'è una parte che va verso l'albicocca molto molto importante ma appunto sicuramente rispetto ai ricordi che avevo di questa birra soprattutto tempo fa è decisamente più in equilibrio la parte appunto balsamica dell'eucalipto e più contenuta proprio per lasciare spazio anche al resto al terzo gradino del podio per intensità metterei probabilmente una punta di pepe ma proprio molto molto contenuta rispetto al resto e passiamo quindi al palato come ci aspettiamo un po' da questo stile da questo tipo di birre c'è un'apertura maltata non eccessivamente dolce ma comunque questa piccola dolcezza è ben bilanciata o anche sovrabilanciata per certi aspetti da un amaro comunque importante che arriva già nel diciamo seconda parte del sorso un amaro immagino che derivi dal lupolo non è particolarmente secca questa birra ma arriva a un finale lupolato piuttosto importante a cui si somma anche una carbonazione molto vivace che aiuta la bevuta di questa birra che comunque è una triple da 8 gradi e mezzo ma appunto questo finale amaro e comunque mediamente secco non eccessivamente ma mediamente secco la rendono ovviamente una birra facile da bere nonostante il grado alcolico sul finale credo a questo punto dato dall'eucalipto c'è appunto questo ritorno sia balsamico e anche una piccolissima stringenza che si ritrova in bocca ma appunto ben ci sta tutto in questo mix secondo me l'apporto così spinto di vegetali che in queste birre a me piace moltissimo mi viene in mente sempre qui sul canale c'è la Chimè 150 appunto che è una parte balsamica molto importante e siamo sempre su birre da oltre 10 gradi mi viene in mente una delle birre che in passato ho bevuto davvero tanto sempre per stare in Belgio la Lupulus Blond dove è aromatizzata con il timo e trovo sempre se dosato molto bene un'ottima cosa questa punta balsamica ed erbacea alla fine di birre così comunque importanti e strutturate questa appunto 8 gradi e mezzo la Chimè su 10 la Lupulus prima nominata sugli 8-8 e mezzo se non sbaglio anche quella e appunto questa freschezza data dalla parte balsamica e vegetale rende ancora più facile da bere come se già non lo fossero questi comunque capolavori belgi dalla scorrevolezza incredibile nonostante l'alto caso alcolico e per certi versi quindi rende anche un po' più pericolose queste birre ma appunto questa punta balsamica come ripeto ancora se ben bilanciata e non esagerata può essere una marcia in più per queste birre e quindi con la triple aleucalipto di Trafontane a scola grazie a tutti Grazie per la visione!